Il percorso di luce che Regione Puglia ha presentato presso il proprio padiglione all'Expo ha toccato anche la storia rappresentata dallo splendore del metallo degli ori di Taranto provenienti dal Marta, Museo Nazionale Archeologico della cittadina pugliese, splendida testimonianza storico-artistica della Magna Grecia. Protagonisti di uno spazio appositamente creato all'interno del padiglione, l'esposizione degli ori è stata una maniera per rilanciare la città dei due mari facendone conoscere le storiche bellezze artistiche anche al di fuori dei confini regionali. Sì, una grande occasione anche in un momento diciamo di rinnovamento del nostro Museo Nazionale e una piccola raccolta di ori che spazia dal III secolo al II secolo a.C. con una pariure finissima di gioielli destinati al corredo funerario di una fanciulla e una corona in oro a foglie di quercia che richiama un po' anche il tema dell'Expo.